Eccoci con un nuovo episodio della sopopera dei Ferragnez. I due, ora che si sono separati, continuano a regalare perle di gossip con le loro avventure e con la loro nuova vita. In particolare, su Chiara Ferragni circola una indiscrezione bomba, da prendere con le pinze, come si usa dire, ma che avrebbe del clamoroso. Un periodaccio per l'influencer, le ricadute del pandorogate sono ancora forti, al punto che su Instagram Chiara continua a perdere consensi e fan, addirittura una media di 1.700 seguacci in meno al giorno, secondo gli ultimi dati di NotJustAnalytics. Molti marchi e aziende hanno deciso di interrompere le collaborazioni con l'imprenditrice digitale. Secondo la rivista Chi, solitamente molto ben informata, la Iervolino e Lady Bacardi Entertainment avrebbe proposto a Chiara Ferragni diversi copioni. Per chi non lo sapesse, la società è una casa di produzione cinematografica globale specializzata nella produzione di contenuti web e televisivi. Il grande schermo potrebbe essere una svolta, quantunque non abbia la minima esperienza o competenza. Ma un eventuale ingresso nel mondo del cinema potrebbe risollevarle il morale e ridare il lustro a un'immagine assai compromessa. Ancora secondo il settimanale Chi, Iervolino le ha offerto diversi copioni, come anticipato. Negli ultimi tempi era circolata la voce che il produttore volesse l'influencer per il docufilm sui Fratelli Maserati che verrà girato quest'estate. Tuttavia, pare che nei progetti di Andrea Iervolino ci siano ulteriori ruoli per Ferragni. Scrive Chi, Andrea Iervolino in quest'ultimo mese ha offerto diversi copioni all'ex di Fedez. Il debutto della Ferragni al cinema potrebbe essere la sua nuova strada. E non solo, già che in ballo ci sarebbe anche un film biografico, una pellicola incentrata sulla storia dell'imprenditrice, presumibilmente nell'era post-Balocco e senza Fedez. Se la Ferragni non necessita di ulteriori presentazioni, concentriamoci su Andrea Iervolino, 36 anni, è il fondatore di diverse società di produzione cinematografiche e studios. Solo due settimane fa Iervolino al Corriere della Sera aveva dimostrato un grande interessamento per l'ex di Fedez. Chiara ha tutte le caratteristiche per bissare nel cinema il successo che ha avuto come imprenditrice digitale. I brand che la scaricano sbagliano, aveva dichiarato il produttore, aggiungendo, vedo in lei un volto di attrice internazionale. Non le mancano le qualità per diventarlo. E una come lei potrebbe aiutare i produttori a vendere film in tutto il mondo.